buongiorno e benvenuti video podcast del centro studio di macchiavelli quest'oggi parleremo del lockdown il giorno della ripartenza quindi non della fine del lockdown ma del avvicinarsi della fine diciamo così ne parleremo con marco gervasoni storico professore di nari università di campo basso demolise è un editorialista su vari giornali anche spesso vediamo in tv come commentatore non ultimo è anche membro del consiglio scientifico del centro studio di macchiavelli con lui si parla appunto del lockdown in modo in cui le persone l'hanno affrontato vissuto anche talvolta differenziandosi su base di linee politico ideologiche di quello che è stato anche che ha fatto il governo e quello che ci possiamo aspettare nel futuro prossimo buongiorno marco allora primo giorno di ripartenza è finito in qualche modo anche se stiamo vivendo ancora i strascichi il lockdown è una questione che ha animato un forte dibattito politico in italia all'estero in alcuni di questi paesi tra cui l'italia direi anche gli stati uniti abbiamo visto che c'è stata una sorta di divisione di frattura su linee politico ideologiche da parte dell'opinione della popolazione nel senso che pur con sicuramente diverse eccezioni tendenzialmente le persone progressiste di sinistra così si sono schierate più a favore della necessità di fare lockdown e di proseguirlo ancora adesso sono forse quelli che animano maggiormente un po le resistenze alla riapertura che nutrono più dubbi mentre invece abbiamo visto a destra ci sono state più le opinioni critiche coloro che invece richiamavano alla necessità di garantire le libertà fondamentali che in qualche modo può anche sembrare quasi un controsenso se pensiamo a tutta la retorica della della sinistra d'ultima generazione sulla libertà sul non rispetto delle regole e così via come la vedi tu questa questa situazione sì allora prima di tutto diciamo che a oggi che è il 18 il lockdown si è finito ma non completamente nel senso che se io volessi andare in Umbria stando in Lazio non ci potrei andare oppure se fossi un imprenditore che gestisce una palestra la dovrei aprire sarebbe ancora chiusa quindi avrei una perdita economica quindi detto che ho specificato questo naturalmente la domanda va andrebbe diciamo collocata caso per caso noi vediamo che per esempio in alcuni paesi abbiamo visto contro il lockdown uno sfilare destra e sinistra o estrema destra o estrema sinistra per utilizzare il linguaggio giornalistico giornalistico assieme per esempio in Germania per esempio anche in Spagna abbiamo visto questa in altri paesi per esempio in Gran Bretagna è piuttosto l'estrema sinistra che è l'estrema sinistra laborista che è contro contro il lockdown negli Stati Uniti è tendenzialmente più la destra anche se poi molti libertarians hanno scritto delle cose di fuoco i libertarians non è che si possono proprio catalogare all'estrema destra anche se su un giornale italiano mi è capitato di leggere a suo tempo di nazisti libertari che insomma è una strana categoria che francamente credo che attenga più alla confusione del giornalista che l'ha scritto comunque l'Italia è indubbiamente così cioè in Italia abbiamo visto soprattutto quelli che io citando Rino Formica chiamo i nani e le ballerine cioè artisti, cantanti, attori eccetera eccetera quasi mai di altissimo livello che sono diventati grandi protagonisti del lockdown fino addirittura a minacciare come dire delazione e cose di questo genere poi comunque generalmente appunto i militanti, i dirigenti della sinistra mentre invece in una prima fase secondo me giustamente in una primissima fase andava fatto comunque per colpire come dire la pandemia quindi Salvini, Meloni anche altri si erano espressi naturalmente per il lockdown però poi a un certo punto quando la situazione fortunatamente cominciava a migliorare la destra diciamo il centrodestra chiamiamolo così ha avuto e diciamo i suoi simpatizzanti i suoi elettroni opposizioni diciamo così più tollerante, più liberare allora perché questa cosa? in teoria avrebbe dovuto essere un po' il contrario no? cioè perché la stampa descriveva i sovranisti nemici della democrazia eccetera eccetera invece i sovranisti risultano essere più libertari naturalmente loro dicono la suddetta stampa dice per forza perché c'è Conte al governo se ci fosse stato Salvini sareste diventati tutti forcaioli in realtà non è proprio così anche perché già quando Salvini e Meloni avevano una posizione pro lockdown all'inizio c'erano anche voci discordanti ma siccome poi è inutile ragionare su per quello che dovrebbe essere ma per quello che è c'è un governo di sinistra e di fatto io non credo che sia solo per quello in realtà che io credo che sia diciamo da un lato perché effettivamente il centrodestra, la destra non è che la destra è a favore dell'autoritarismo, è a favore dell'autorità l'autorità però si deve coniugare con la libertà e le libertà quelle vere cioè la libertà di movimento, la libertà di espressione non le libertà come dire quelle degli apericena che invece erano state rivendicate ricordiamoci perché poi all'inizio adesso sembra che la sinistra abbia una posizione virtuosa fin dall'inizio, in realtà abbiamo visto personaggi come Sala, il sindaco di Milano Gori il sindaco di Bergamo, lo stesso Zingaretti che a pandemia già scoppiata la pandemia già scoppiata dicevano riparte Bergamo, riparte Milano e andavano a parte l'abbraccio al cinese iniziale che secondo me storicamente e anche secondo me magari se qualche magistrato vuole andare a vedere diciamo il difendere la Cina è stata una delle ragioni per cui il governo ha affrontato la cosa in ritardo però lasciamo perdere questo, la pandemia era già scoppiata questi esponenti della sinistra dicevano riparte Milano, riparte Bergamo andiamo tutti a fare la pericena poi uno di questi, non sappiamo se la pericena il segretario del PD è stato pure ha preso pure il Covid poi è guarito siamo contenti naturalmente e qui il discorso naturalmente sarebbe complesso però è interessante perché abbiamo visto nel giro di pochissimo tempo la sinistra passare che è una sinistra ormai individualista eccetera eccetera recuperare come dire gli elementi della sua cultura politica originaria che è una cultura politica statalista e forcaiola essenzialmente perché questo? siamo passati dal politicamente corretto a quello che io chiamo pandemicamente corretto perché questo? ma in realtà forse che forse questo libertarismo originale non era così fondato se andiamo a vedere il politicamente corretto nelle sue forme essenziali vediamo che era era è perché c'è ancora diciamo una sorta di ideologia profondamente intollerante e per certi aspetti anche totalitaria nell'università americana per esempio si parlava adesso non se ne parla più perché gli studenti non ci vanno di safe space cioè spazi sicuri i spazi sicuri erano quelli in cui ovviamente quelli di destra non potevano andare a parlare come dire c'era prima il politicamente corretto aveva un'ideologia della sanità del non farsi infettare dalla destra si è passato al pandemicamente corretto per cui se tu giri senza mascherina anche all'aperto così sei potenzialmente un untore e anzi come mi è capitato di leggere da qualche parte potenzialmente un fascista sì come effettivamente notavi diciamo che il politicamente corretto ha trovato forse una sua perfetta o quasi perfetta trasposizione sociale nel lockdown tu dicevi anche molti pensavano i sovranisti si sarebbero trovati più all'oraggio con un sistema in cui c'era sostanzialmente la violazione la conculcazione dei più elementari diritti degli individui dei cittadini a questo proposito notiamo anche che Orban ha recentemente rinunciato al potere emergenziale ha dichiarato finita l'emergenza in Ungheria poche settimane fa quando gli furono dati ci fu la levata di scudi internazionale da parte dei politici giornalisti, intellettuali vari commentatori della tastera dicendo ecco Orban ha sfruttato la pandemia per proclamarsi dittatore nel frattempo qui lo stato di emergenza c'è ancora mentre Orban dopo poche settimane ha lasciato tutti i poteri tu hai anche scritto un articolo all'epoca per far notare che c'erano diverse bufale che giravano su quelle che effettivamente erano le misure in Ungheria la domanda è ma secondo te qualcuno di questi che hanno preso questo abbaglio colossale adesso chiederanno scusa diranno ci siamo sbagliati o faranno finta di nulla come sempre no sicuramente no ma adesso spiego perché però riguardo all'Ungheria c'è anche da notare che durante il lockdown le persone comunque potevano uscire cioè non era come da noi che non si poteva uscire potevano uscire erano scaglionate un po' per per orari diciamo così per impedire che si creassero assembramenti ovviamente negozi ristoranti eccetera eccetera erano chiuse un po' come da noi però si poteva uscire a camminare così e mi dicevano amici ungheresi che mi facevano notare che in Ungheria alcuni giornali riportavano come un esempio di autoritarismo il fatto per esempio che le persone venissero multate mentre camminavano soli sulle spiagge quindi diciamo anche da questo punto di vista non solo Orban è stato molto più democratico di Conte perché i pieni poteri li ha presi non con un DPCM ma dopo una legge che è stata varata apposta e che è passata in Parlamento adesso poi ha pure rinunciato ma non solo poi questi paesi sono Ungheria ma anche la Polonia la Repubblica Ceca e la Repubblica la Slovacchia e la Repubblica Ceca e anche la Croazia sono stati diciamo lo diceva Le Monde qualche giorno fa sono riusciti a contenere l'epidemia questo probabilmente Le Monde non arrivava a dirlo perché avevano un loro controllo delle frontiere ma insomma sono riusciti a contenere l'epidemia senza ricorrere a lockdown diciamo estremamente brutali e senza anche arrivare a quei risultati diciamo di disastro economico ma lì dipende anche dalle misure naturalmente che questi governi ungherese polacco hanno messo in atto per proteggere economicamente chi stava in questa situazione ma insomma lasciando perdere io credo che per rispondere alla tua domanda no il governo ungherese ha anche chiesto al Parlamento Europeo di scusarsi perché anche il Parlamento Europeo aveva preso posizione così ovviamente secondo me non avranno nessun tipo di scusa né dalle istituzioni né dai singoli perché in qualche modo il discorso era che Orban era già nel discorso era logicamente abbastanza confuso perché ci avevano detto Orban è già un dittatore e quindi diventa ancora più dittatore ora se fosse stato dittatore prima perché non ci sarebbe stato bisogno di chiedere al Parlamento i pieni poteri e quindi però siccome loro restano convinte che Orban sia un dittatore rimane questo discorso che nel caso dell'Ungheria è abbastanza interessante perché ovviamente le fake news girano e così però abbiamo visto un giornale come la stampa ieri o l'altro ieri mettere la fotografia di Trump accanto a quella di qualche dittatore diciamo di paesi come la Bielorussia e così mettendolo assieme alla categoria degli autocrati da notare che nella categoria degli autocrati non veniva messo Xi Jinping quindi se si arriva a scrivere che la stampa di Torino arriva a scrivere che Donald Trump è un autocrate figurati che cosa pensano dell'Ungheria però nel caso dell'Ungheria la produzione di fake news secondo me è molto più ampia soprattutto in Italia per semplicemente una ragione linguistica cioè mentre diciamo con paesi come Francia come Gran Bretagna come Inghilterra puoi comunque andare volendo a verificare sui siti leggendo il caso dell'Ungheria è un po' più difficile e poi c'è da notare un'altra cosa che nessuno di coloro che scrive sull'Ungheria almeno sulla stampa italiana è veramente inviato cioè è tutta è tutta gente in genere o che proprio non sa neanche dove sta l'Ungheria oppure sono inviati dalla Germania quindi perché secondo me in questa produzione di fake news ha un ruolo molto importante il governo il governo tedesco che non è molto contento del fatto che l'Ungheria si sia staccata un po' dalla pluridecennale egemonia tedesca per avvicinarsi da un lato alla Russia e dall'altro in parte agli Stati Uniti ricordiamo che Orban è andato in visita l'anno scorso da Trump alla Casa Bianca tornando un attimo a quelle che dicevi nella prima risposta citavi questo incoraggiamento della delazione molti dicono il lockdown tutta questa risposta all'epidemia ha tirato fuori il meglio degli italiani e della popolazione italiana può darsi però a me sembra che in alcune circostanze abbia tirato anche fuori il peggio abbiamo visto questa corso alla delazione una notizia che ho letto settimana scorsa giusto come piccolo esempio un estetista mi pare in Sardegna che aveva tirato su metà seracinesca per far entrare il tecnico che doveva cambiargli il registratore di cassa sono arrivati i carabinieri dicendogli che avevano ricevuto otto telefonate di delatori che la denunciavano perché pensavano che stesse praticando abusivamente diciamo così la sua professione con cui tra l'altro presunibilmente ci campa ecco c'è stata la caccia aiuntore a un certo punto sembravano che i podisti i corridori fossero quelli che spargevano in morbo senza nessuna evidenza scientifica perché poi l'abbiamo anche saputo ma era già evidente prima che i centri di contagio erano altrove i casi di riposo gli ospedali e così via non vorrei esagerare ma a un certo punto la paranoia è diventata così tanta che penso sia qualcuno se il governo avesse fatto un DPCM dicendo che si poteva sparare i podisti senza essere perseguitati molta gente avrebbe messo mano fucile senza farsi nessun problema una famosa banalità del male che ne dici tu di questa cosa? Ah beh innanzitutto si vede abbiamo visto fenomeni di questo genere anche negli altri paesi questo fa dire ai globalisti che diciamo che è la dimostrazione che il covid è globale va affrontato globalmente a me fa semplicemente dire che la natura umana è ovunque dappertutto quindi la natura umana reagisce in maniera in maniera sostanzialmente simile però per esempio qualche giorno fa c'era un bel articolo su Wall Street Journal dove dice dove parlava di quelli che insultavano a New York i runners senza mascherina consideriamo che dal punto di vista nello stato di New York la mascherina non è obbligatoria all'aperto ecco però appunto questi lo facevano lo stesso quindi non è una questione di legalità perché appunto per esempio anche in Lazio dove la mascherina non è obbligatoria all'aperto se non quando si avvicina una persona a me è capitato una volta anche di essere apostrofato io come dire ho reagito in maniera abbastanza british però è capitato anche a me quindi non è non è stata un'eccezione è capitato a tutto abbiamo visto anche un attore diciamo figlio di un grande attore figlio di un grande attore italiano che non ha lo stesso livello purtroppo per lui ma insomma è questo figlio grande attore noto soprattutto per una eccellente interpretazione in una pubblicità di Tonno il figlio ovviamente che aveva fatto un post in cui diceva se io incontro qualcuno presumendo che sia nel Lazio se io incontro qualcuno senza mascherina prima come dire glielo dico gentilmente poi glielo dico brutalmente poi chiamo la polizia allora se è stato divertente assistere al scena dell'arrivo della polizia che già poveracci anche se poi qualcuno se ne è approfittato ma tendenzialmente la gran maggioranza gran parte delle forze dell'ordine si è sentita umiliata in questo compito di inseguimento dei 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 podisti così noi non dobbiamo distinguere nella critica cioè noi non dobbiamo prendercela con le forze della polizia perché se no siamo come i centri sociali che hanno manifestato anche loro contro il lockdown loro se la prendono la polizia ovviamente mentre invece la questione è noi dobbiamo prendercela con chi ha elaborato questi 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 queste formule queste formule bizantine assurde e chi le ha messe in pratica cioè i vertici dirigenti non i poveracci poliziotti carabinieri che hanno dovuto interpretarlo ma detto questo insomma perché la delazione queste cose naturalmente qui entra in gioco la psicologia sociale la psicanalisi l'antropologia culturale insomma più o meno nelle società occidentali da Stati Uniti Germania così il risultato è sempre è sempre è sempre lo stesso quello che semmai c'è di più in Italia che ho visto su questo aspetto è che la delazione viene caricata come accennavo prima di un significato politico cioè questo credo che sia il portato diciamo purtroppo del comunismo di cui non riusciamo a liberarci cioè mentre magari negli Stati Uniti quello ti fa la delazione ti dice no tu non ti metti la mascherina perché c'ha effettivamente paura oppure fa la delazione perché gli sta sulle palle o cose di questo genere e qui invece si carica di un significato politico cioè io devo fare la delazione perché in qualche modo tu non rispetti la la legge che poi appunto abbiamo visto che questa legge è interpretata non rispetti la legge costituisce una minaccia e quindi in qualche modo sei sospetto di essere contro la comunità e chi è che è sospetto contro la comunità naturalmente nel linguaggio comunista la destra il fascista quindi insomma sei un po' caricato di questo elemento dopodiché ovviamente io spero che diciamo quando io spero che questo fenomeno appunto vada spegnendosi e che appunto stia finendo questo fenomeno della delazione però è un piccolo caso che dimostra come in realtà l'idea che diciamo i progressisti nella loro sostanzialmente ingenuità in fondo sono rimasti gli stessi che Voltaire prendeva in giro in Candide cioè quelli che pensano che è il migliore che quello che deve venire è il migliore ai mondi possibili che tutto andrà bene ricordiamo gli striscioni andrà tutto bene eccetera eccetera quindi hanno questa visione un po' come dire ingenua un po' insomma bambinesca anche della vita umana assolutamente una concezione priva di tragicità eccetera eccetera quindi dicono no in questa crisi sicuramente saremo provati ma saremo tutti più solidali diventeremo tutti più buoni perché alla fine l'intenzione dei progressisti è quella di farci diventare tutti più buoni magari poi come facevano i loro antecedenti mandando le persone nei gulag ma questo è un altro discorso no in realtà e adesso sono sorpresi che invece la società italiana gli italiani tenendoli rinchiusi si sono incattiviti il caso appunto degli insulti alla Asha Silvia Asha Romano che poi sì alcuni ovviamente anche insultati ma altri erano delle critiche motivate al fatto che tu non è che puoi tornare vestita da giadista insomma quindi voglio dire o di dire che l'islam è meraviglioso così però ecco lì hanno dimostrato effettivamente il senso hanno scoperto guarda caso i progressisti guarda un po' che tenendo le persone chiuse in casa magari rischiandogli di fargli perdere il posto di lavoro o alcuni casi proprio perdendo il posto di lavoro e così devono essere contenti questo riflette esattamente come dire l'ideologia come dire in senso marxista potremmo dire la posizione sociale di quelli che sono il ceto referente ormai della sinistra cioè sostanzialmente l'impiego pubblico io sono un professore universitario quindi sono anch'io un impiegato pubblico ma ovviamente quelli dell'impiego pubblico sono quelli che sono andati alla grande con lockdown perché in compenso in cambio di non uscire si aveva lo smart working che scusate è comunque sempre meglio che farsi a Roma due ore di auto per andare a lavorare o due ore di metro per tornare quindi ho fatto lo smart working non hanno perso un centesimo dal punto di vista della della retribuzione e poi naturalmente questi da un lato e dall'altro il ceto dei nani e delle ballerine che appunto facevano le Monica Bellucci mi ricordo all'inizio le interviste ai giornali appunto Gasman Monica Bellucci questi qui che dalle loro ville e lo dicevano anche che stavano nella loro villa chissà come erano riusciti andare alla loro villa dicevano restate a casa siate siate responsabili in fondo si sta bene anche con i propri aspetti diciamo questa Italia ultra minoritaria diciamo così profondamente minoritaria pretenderebbe attraverso naturalmente i mezzi di comunicazione soprattutto le televisioni e i giornali e con l'amplificazione anche di quelli che io chiamo i virologi da talk show che poi abbiamo visto essere anche ben pagati diciamo non vanno al talk show solo per il nome della scienza ma insomma 200 euro al minuto chi non andrebbe al talk show questi virologi da talk show che facevano fanno tuttora discorsi sostanzialmente terrificanti e certo che per loro per come dire gli impiegati pubblici senza voler generalizzare i nani e le ballerine e i virologi da talk show certo che andrà tutto bene ma per il resto degli italiani direi proprio no non so se poi questa sorta di isteria cacciaduntore sia stata anche alimentata un po' dal comportamento dei media che soprattutto per almeno un mese sono stati totalmente allineati al governo ed è il governo stesso che forse hanno trovato in facili capri e spiatori che non si potevano difendere come l'anonimo podista dei modi per nascondere invece quelle che erano delle proprie responsabilità abbiamo visto anche in questo fine settimana l'ultimo ennesimo capitolo di una gestione che eufemisticamente possiamo definire incerta il DL e il DPCM che non arrivavano e disaccordi con la regione risolti di notte e quindi una riapertura che a un certo punto non si sapeva nemmeno se si sarebbe potuta fare qual è il tuo giudizio sintetico lo so che ci sarebbe molto da dire su quello che ha fatto Conte finora e pensi che alla luce di quelle che è la sua performance diciamo così questo governo con la crisi economica che si prepara che è già qui ma che si prepara a far vedere appieno tutti i suoi effetti potrà reggere a lungo allora oggi il Corriere della Sera con Paolo Mieli dà la sufficienza a Conte non ne avevamo dubbi anzi considerando il giornale che è stato tra i giornali mainstream quello che si difende più Conte anche con pezzi imbarazzanti forse la sufficienza è anche rispetto a quel giornale è un po' una sorpresa No, noi daremmo l'insufficienza dicevamo all'inizio all'inizio la gestione è stata sottovalutata profondamente sottovalutata durante la gestione appunto diciamo c'è stata una chiusura che è una chiusura che nessun altro paese tranne forse la Cina ha fatto considerando che però la Cina non ha chiuso tutti gli impianti tutta la Cina è stata chiusa è stata chiusa quell'area certo è grande 5-6 volte l'Italia di Wuhan e delle zone colpite quindi diciamo possiamo dire brutalmente sono capaci tutti come dire chiudendo tutto e lasciando le persone impedendo le persone di uscire di far diminuire il numero il numero di morti e tra l'altro sulle cifre c'è stata una curiosa interessante evoluzione perché all'inizio come dire i virologi di regime qui non sono quelli a talk show in alcuni casi però sono la stessa persona cioè i consiglieri dicevano no ma guardate il numero in realtà di morti è superiore cioè sì le cifre sono quelle ma in realtà sono meno perché cioè insomma tendevano a ribasso e invece a un certo punto quando hanno capito che in realtà il governo può stare in piedi solo finché c'è l'emergenza cioè solo finché c'è ci sono allora hanno incominciato a caricare questa cosa delle cifre che sono aumentate in realtà noi non sappiamo ci sono articoli su ogni giorno sulla stampa straniera anche lì c'è la discussione negli altri resi cioè la comunità scientifica non è ancora dei medici non è ancora riuscito a capire come si può fare effettivamente una classificazione di morti di covid quindi cioè le cifre sono abbastanza ballerine e adesso la fase è naturalmente quella di dire di dire poi naturalmente vedremo nei prossimi giorni quando si alzano si tenderà a far chiudere una determinata regione una determinata città diciamo le previsioni allora io ritengo che il governo sia totalmente inadeguato ad affrontare la crisi economica basta vedere l'ultimo decreto il cosiddetto decreto rilancio che in realtà è uno slogan perché i soldi non ci sono e soprattutto la filosofia di fondo ammesso che i soldi ci siano è una filosofia di tipo meramente redistributivo che va bene per bene per carità però non consente soprattutto agli imprenditori ai commercianti veramente di far ripartire che potrebbe portare anche ad una forma di ragionamento del tipo vabbè mi sono preso i soldi piuttosto che aprire l'esercizio commerciale rischiando di prendere le multe o addirittura di farmi ritirare la licenza io mi prendo questi soldi e poi vedo tra qualche mese cosa succede che è questa come dire un po' una politica una specie di estensione di massa del reddito di cittadinanza una specie di mega reddito di cittadinanza in cui così si anestetizza la popolazione quindi questa tendenza c'è molto forte non è in grado non sarà in grado di affrontarla tuttavia io ritengo che per usare un termine che va molto di moda Conte sia molto resiliente diciamo è stato sottovalutato da molti anche da Salvini in agosto da molti di noi anche in realtà non per particolari capacità sue ma perché evidentemente alcuni ambienti alcuni settori l'hanno eletto a unico baluardo sta di fatto che è molto difficile buttarlo giù abbiamo visto come per esempio ha detronizzato ha detronizzato ha annullato Cairo no Cairo scusate Colau Colau era stato mandato lì sostanzialmente per fargli le scarpe quello era abbastanza evidente lui l'ha bloccato non nominandolo ministro cosa che avrebbe portato alla possibilità innanzitutto di partecipare al Consiglio dei Ministri con tutto quello che ne conseguiva l'ha lasciato a Londra gli ha detto no no ma tu non ti preoccupare stai in remoto a Londra perché è così e abbiamo letto oggi sui giornali che ormai segue i rapporti di questa task force Conte annoiato e quasi mentre guarda il telefonino e così quindi l'ha sostanzialmente fatto fuori forse Colau non aveva intenzione di prendersi la patata bollente però certamente alcuni ambienti avevano all'inizio puntato su Colau quindi in realtà farlo cadere fare cadere Conte appunto non sarà molto facile e comunque diciamo lì bisogna vedere anche perché appunto uno dei supporter è certamente il Presidente della Repubblica che ha fatto sapere che se cade Conte si va a elezioni cosa che ovviamente ha fatto scattare subito il panico nei Cinque Stelle ovviamente che non vogliono andare Italia Viva che da quel momento ha cominciato ad abbassare la cresta perché se va diciamo almeno i tre quarti dei deputati attuali di Italia Viva non sarebbe rieletto l'unico che ecco l'unico che potrebbe essere interessato ad andare a elezioni in qualche modo del governo ovviamente è il PD però insomma con un forte rischio in realtà quindi io credo che diciamo Conte verrà buttato giù solo di fronte ad una situazione realmente disastrosa che naturalmente c'è una possibilità che possa arrivare nell'autunno sicuramente e sì c'è un qualcosa di c'è un qualcosa di Giolittiano Conte non nelle capacità statista ma forse nelle capacità di rimanere a galla nel Parlamento Giolitti fu fu estromesso da una crisi epocale come una grande guerra Conte sta per affrontare la sua crisi la sta già affrontando la crisi sanitaria ma arriva con l'economica e sarà difficile penso per lui riuscire a rimanere a galla anche con tutti gli appoggi possibili grazie mille Marco Gervasone quello lo vedremo grazie mille ricordo ai nostri ascoltatori che possono trovare diversi tuoi articoli anche nel sito del centro studio di Machiavelli ma poi hanno mille opportunità di ascoltarti o di leggerti in vari editoriali in vari interventi che fai anche in tv spero di sentireci a presto grazie grazie Daniele a presto e in bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.